Forza ragazzi, la scalata della collina, forza, primo giro, ecco Nicolò Oggi è venerdì, l'ultima giornata di allenamenti, il mister di giovanissimi Gabriele ha previsto una bella salita sulla collina, cinque salite, ecco Bartolo, Gabriele, Filippo, Nicola, Lele, Matteo e Nicolò, secondo giro, ecco il terzo, la terza salita, anche il mister, anche il mister Gabriele, ecco che fa il sorpasso ma viene ostacolato da Michele, ecco Federico, Guido, Karan, Teidi, Alessio, su su dai 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 dai, forza Nicolò, ecco il mister che riscende e scommetto che farà un altro scatto, dall'esempio, dall'esempio, ecco Pitbull, Federico, Teidi, Guido, Gianluca, Karan, Cristian, Manuele, Alessio, Fabio Masciarelli, Bartolo, Enrico, Luca, Filippo, Gabriele, Nicola, Lele, Nicolò e Matteo, mentre Michele ha messo la retromarcia, quarto giro, quarta salita, è il quinto o il quarto? Va bene, ultimo, ecco Pitbull, Pitbull che proprio che sta l'inchianto, pure Federico, Michele, più scatto ci vuole, più scatto, mi sembra che sei morto, dai l'esempio, bravi ragazzi, bravi, 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 ok, piana piana Nicolò, ecco, riscendono i nostri ragazzi dopo 5 arrampicate sulla collina, adesso sono pronti per fare una partitella in famiglia e concluderanno concludendo gli allenamenti settimanali, ecco pure Matteo, si stanno preparando a dovere per la gara di domenica mattina in casa, contro la valle Aventino.